Buongiorno a tutti. Oggi trattiamo di una mozione che per noi riveste un'importanza particolare perché parliamo di salute dei cittadini. Vogliamo porre l'attenzione sull'istituzione del registro tumori della Regione Lazio che il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Davide Barillari ha proposto nel 2013 e che poi è stata approvata nel 2015 diventando così una legge regionale. Parliamo di date. Perché parliamo di date? Perché da giugno 2015 ad oggi nonostante gli sforzi che sono stati profusi in questa direzione non c'è ancora la definitiva realizzazione di questo progetto. Perché è importante? Cito alcuni passaggi perché sono veramente chiari e a tempo stesso emblematici. Realizzare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione di dati statistici completi provenienti da molteplici fonti di flussi informativi in campo sanitario per incidenza, prevalenza e sopravvivenza secondo l'andamento spaziale e temporale dei casi di tumore, anche infantili, che si verificano nella popolazione della Regione. Allora, abbiamo evidenze purtroppo ancora oggi non scientifiche di aree che vengono colpite da questo tipo di patologie. Quindi il monitoraggio costante e approfondito a livello scientifico è utile anche alle amministrazioni locali per prendere dei provvedimenti che altrimenti non avrebbero alcun riflesso reale sulla popolazione. Andiamo avanti. Quindi consentire interventi mirati di prevenzione primaria e valutazione per l'attivazione di campagne specifiche di diagnosi precoce oncologica, quali screening oncologici. Questo è un tema importantissimo, la prevenzione. Se noi non abbiamo uno strumento ancora oggi che è efficacemente valido, aggiornato e produttivo di risultati abbiamo un problema perché, come tutti sappiamo, la prevenzione dei tumori è fondamentale perché spesso bastano dei stili di vita, delle attenzioni particolari e soprattutto parlo agli agenti inquinanti che purtroppo spesso determinano queste patologie a scongiurare poi l'esito che purtroppo ancora in parecchi casi è definitivo. Andiamo avanti. Essere strumento di supporto per gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato matrici ambientali e matrici umane. Questo è proprio il punto chiave. Quando noi abbiamo dei agenti inquinanti che potrebbero derivare sia da fonti di inquinamento che non vengono rilevate, l'impatto sulla popolazione è a volte letale. Quindi possiamo fare degli esempi tipo sversamenti, tipo abbandono di rifiuti nocivi e quant'altro fino ad entrare nella catena alimentare direttamente. Allora, purtroppo i tempi qui erano molto chiari. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale sentita la commissione consigliare in materia di sanità adotta senza l'articolo 37 eccetera eccetera. Qui ci sono diverse tempistiche che non abbiamo contezza siano state rispettate e anche se sul sito della Regione Lazio ancora alla voce realizzazione c'è scritto in corso di realizzazione, noi purtroppo dobbiamo registrare anche attraverso il contatto con i nostri consiglieri regionali che non c'è una definitiva realizzazione di questo progetto importantissimo. Abbiamo apprezzato, e vado a concludere, il workshop del 16 novembre del 2017 che in qualche modo tenta di suggerire un cronoprogramma e purtroppo dà dei dati di incidenza su Roma e Lazio che sono risalenti al 2015. Quindi è evidente che serve un'accelerazione e serve soprattutto un impegno non solo finanziario ma anche di organizzazione e per questo motivo diamo mandato alla nostra sindaca e all'assessore alla persona scuola e comunità solidale per sollecitare la Regione Lazio a provvedere con la massima urgenza all'applicazione definitiva del registro dei tumori nella Regione Lazio. Grazie.